Questo è l'Hazbin Hotel, un hotel che si trova negli inferi, il posto dove tutti i demoni stanno. Il canale è questo qui, e stavo ricercando dei modi per cercare di trovare come spawnare Charlie di Hazbin Hotel nel mondo di Minecraft, dove c'è Alberum e Solar, perché lì si verificherebbero delle cose molto strane. Ecco, avete visto? Chi è questo qua? Chi è questo qua? Che come vedete qua nella vita reale sono già stati avvistati, ora andiamo avanti, tipo. E qua non so, da loro sono diventate le luci rosse. Guardate qui! Cos'è? Ma c'è queste morte! Oddio! Vedete, tutto rosso proprio come nella serie originale di Hazbin Hotel, non so se l'avete mai vista. Io ho grande appassionato, bellissima serie. Ma sbaglio pure questa è Charlie Stella del mattino, ragazzi, che è la figlia di Lucifero, che lei in teoria è molto buona. Cos'è che dice? Dice, ah, salve, benvenuti al mio hotel! Sapete che lei è molto buona, molto gentile. Il mio nome è Charlie! È veramente... che bello! Cioè, siete venuti qua in questo hotel, sono molto contenta! Cioè, parlano così, in effetti, con un po' più di parole brutte, ma... Dice, non vogliamo essere qui, perché stiamo qua? Quindi sono stati, tipo, presi all'interno dell'Hazbin Hotel, ovviamente, non ve lo spoilerò tutto. Dovete, cioè, se volete capire, potete andare a vedere anche il loro video, giustamente. Però dopo che avete finito il mio. Cos'è l'Hazbin Hotel? Ah, loro non lo sanno nemmeno! L'Hazbin Hotel, ovviamente, è una cosa che ha creato lei e ogni demone stanno... che stanno all'inferno, praticamente, i demoni. E infatti loro sono all'inferno, però possono entrare in questo Azbin Hotel per essere redenti, per la redenzione, cioè per essere perdonati, tipo. Dice, questo non è l'hotel, questa è casa mia, cosa te ne vai via? Ma infatti si vede che è, tipo, una tizia con un pallone in testa, secondo me sono la mente impazzita e basta. Non è la vera Charlie Stella del mattino, sarebbe un piacere conoscerla. Io sono la figlia di Lucifer, ti immagini dire questa cosa, tipo... Sì, io sono la figlia di Lucifero. Ovviamente loro sono, tipo, what? Ma che cosa sta dicendo sta qua? Ma non è vero. Ad un certo punto loro, ovviamente, continuano ad avere le luci rosse. Io sto cercando un modo per spawnare questa cosa anche su Minecraft, sul mio Minecraft, perché voglio vedere, voglio vedere tutti i personaggi. Charlie Stella del mattino, Veggie, Alastore, Alastore è veramente un pazzo. Cosa sta facendo? Sta suonando il campanello, cioè il coso, e non funziona. Dice che vogliono uscire loro. Dice, ehi, non potete uscire, dovete stare qui. Avete promesso di restare qui, quindi adesso state qui, avete capito? Oddio, si è arrabbiata tantissima, dice, no, non potete uscire. Eh, ma questa non è, cioè, non lo so, Charlie Stella del mattino era più buona, no? Cosa fa? Sta cantando come nella serie, no? Eh, no, e sono bloccati qui dentro. Mi dispiace a questi ragazzi. Aha, li ho trovati su Minecraft, forse così che si spawnano. Alastore sta, boh, in piscina. E lei, questa è Charlie, e dice, ehi, puoi salvare la tua anima e diventare buono, perché non vuoi farlo? Ma lui, ovviamente, non vuole farlo, è un demone molto potente. E dice, mi piace essere cattivo. Perfettamente in stile Alastore, in effetti. Beh, ragazzi, io ho ricercato un po' di cose, chiaramente, come vedete. Questi video sono tutti indicativi di una cosa, cioè hanno tutti una cosa in comune, ovvero il rosso. Ah, comunque passate sul nostro server Discord per una chiacchierata. Il link lo potete trovare nella descrizione oppure nei commenti. Torniamo al video. Allora, ragazzi, so che questa cosa potrebbe non sembrare molto intelligente da fare. Peraltro, guardate, mi sono spaventato perché c'era Solar in cielo, mio Dio. Che lui è sempre lì che ci spia. Peraltro è sempre bloccato da un po' di tempo. Cioè, non si muove, continua ad essere lì. Qui dobbiamo spawnare il signor tizio di... il signor Alastore. O comunque, qualcuno dell'inferno. Cioè, brutto da dire, però è questo che dobbiamo fare in questo episodio. Quindi, bisogna andare anche a prendere la Redstone. La Redstone ci servirà, ovviamente, per... Avete presente che tutti gli altari su Minecraft si fanno con la Redstone, no? Adesso direi, quindi, di scendere nelle profondità di Minecraft. Da qualche parte qui in giro dovrebbe esserci, oltre che il ferro, ma che per ora non ci serve. Oddio, in realtà, quello che... Eh, insomma, servirebbe per fare il piccone in ferro. Perché dobbiamo prendere la Redstone, quindi come non è fino. Allora, so che normalmente le persone normali non stanno ad evocare demoni su Minecraft, giusto, ragazzi? Lo so. Io ne sono perfettamente consapevoli. Per favore, non giudicatemi, va bene? E cosa mi giudicate? Vi vedo, eh, che mi giudicate. Che pensate che io sono stupido, eh? E non è vero. Perché parlo così? E che forse sono stato posseduto da Alastore. Non credo, spero di no, mio Dio. Magari mi ha preso l'anima Alastore, vi immaginate? Spero di no. Ragazzi, ho trovato la Redstone. E qui ho messo le fornaci, perché qui possiamo farci il ferro. Peraltro, vi ricordate Alberum? Alberum ha qualcosa in mente, chiaramente. Guardate, è qui e continua ad essere qui, purtroppo. C'ha un problema, secondo me, con noi. Vuole ucciderci o fare qualcosa di male. E Alberum, insieme ad Alastore, fanno un insieme, una combo veramente spaventosa, che non vorrei mai che succedesse. Ma purtroppo succederà, perché sono stupido. Potrei non evocare Alastore, ma siccome sono Dunis, devo evocarlo, ok? Quindi, grazie, andiamo. Adesso, spacca la Redstone. E in teoria, abbiamo già abbastanza Redstone per poter evocare il nostro Alastore. Eccoci qua, ragazzi. Praticamente, eccoci. Ma mica è successo? Ecco, perché è successa quella cosa lì? Eh! È sparito il bastoncino! Strano, eh? Strano, abbastanza strano. Il Bro vuole farmi credere che non è lui. Invece è Alastore, secondo me. Lui è già nel mondo, probabilmente. Sono io che sono scemo, tipo. E credo che non sia nel mondo. Allora, vediamo. Un, due, tre e quattro. Credo che questo sia un segno abbastanza palese che ci sia Alastore. E quindi adesso bisognerà stare attenti che Alastore, col suo sarcasmo antipatico, cioè, in realtà, mi sta molto simpatico. Però... Eh! Ho visto... No, raga? Ho visto qualcosa fra gli alberi, ma forse sono io che sono scemo. No, 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 aspetta un attimo. Raga, questa cosa qua, mi sto spaventando io. Sapete perché? Perché sono tutte queste facce, poi c'è Solar. No, invece ho visto bene io. È Alastore! È sparito! No, 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 no! Quello è... Ragazzi! Quello era Alastore! No, no, no! Eh, mi sa che... Sapete, ragazzi, secondo me è Solar che ci sta mandando che, tipo, gli sta dicendo dove sono. Ma che caspita ne so io! Peraltro mi sto immaginando pure cose, ma cosa ne so? Ma cosa ne so, ragazzi? Solo che mi sono spaventato tantissimo! Muori! Eh, no, le api non le picchio perché sennò poi dopo mi ammazzano male loro. Ok. Ehm... Cerchiamo di nasconderci da Alastore. Alastore! Sei qui, bro? Dai, per favore, non farmi fuori. Cioè, allora, io ti ho evocato in questo mondo perché tu, ehm... Sei veramente simpatico. Io sono un tuo grande fan. Ragazzi, ho come l'impressione che Alastore e non so se... Aaaaaaah! Aaaaaaah! No! No, 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 no! Io vi ho... No! Avete visto? Avvale corna pure! Ma... Ok, però aspetta un attimo. Non so se ti può spaventarmi. Vediamo se è cattivo oppure no. Ehm... Allora, provo a richiamarlo. Eccoci. Mi sa che è cattivo, ragazzi. Mi ha picchiato. Perché fa così? Alastore normalmente non fa così. Cioè, non credo che ha il tempo, la voglia, il vero Alastore, di fare queste cose. Eppure, questo Alastore lo sta facendo. Non sto capendo. Cioè, voi cosa ne dite? Aspettate. Adesso chiamerò un mio amico. E lì? E lì, e lì, mi senti? Non so se ci sei ancora. No, Domis. Cosa c'è? Tu non sai. Ma io sono nel mondo di Minecraft e sono da solo e purtroppo ho fatto la stupidaggine di evocare Alastore. Oh, cavolo. E come mai hai fatto questa scelta un po' strana? Perché sto registrando un video e perché mi sta simpatico. Cioè, io volevo trovare... Allora, tu sai... Tu conosci bene Alastore, no? Sì, è un mio caro amico. Sì, certo. Come ti piacerebbe che ti fosse un tuo caro amico, vero? Sì, se vuoi te lo faccio conoscere meglio e poi te lo presento. Ma non è vero, non lo conosci. Lo conosco, te lo dico io. Hai visto la serie, non lo puoi conoscere. Eh, ho visto la serie e lo conosco. Ma non è il tuo amico allora, scusami, eh. È un mio grandissimo amico. Vabbè, come ti pare. Comunque, eh... Allora, adesso io ho visto la sua skin all'interno di Minecraft, solo che mi picchia. Non capisco, cioè, ti sembra un comportamento normale da Alastore, tu che sei esperto? Guarda, di solito lui non fa queste certe cose che picchia o ammazza la gente, però ogni tanto gli prende quel... qualcosa di psicopatico e inizia... Quei cinque minuti, tipo. Sì, gli parte lo spasmo e gli inizia a spaccare tutto. Ma tu dici che si potrebbe espandere anche alla vita reale, non credo, spero. No, non penso, però potrebbero esserci probabilità. Bene, grazie allora del tuo consulto inutile, volevo che mi tranquillizzassi, invece no, mi hai tranquillizzato, mi hai solo messo più paura. No, non ti preoccupare, tu cerca di essere amichevole, penso che... Capirà. non lo so, probabile può essere che capirà, sì. Guarda, qua c'è Alberum che intanto è pelato, non lo so, è un po' strano. Alberum, ma non l'avevamo sconfitto? No, c'è ancora nel mondo, c'è in un altro mondo, lunga storia. Comunque ti saluto adesso, ciao ciao. Ciao. Allora, ragazzuoli miei, purtroppamente avete capito quindi... Ah, la storia all'interno del mondo, ma dov'è? Adesso non si sta più facendo vedere, questo è il punto. Alastor, vieni qua, dai, forza, ormai so che sei all'interno del mondo, sai? Allora, ciao, è un piacere conoscerti. Mi spieghi come, caspita, ci sei finito qui dentro? No, no, scherzavo, scherzavo, Alastor, ti prego. E ragazzi, mi sono teletrasportato tipo qui e vedete, fuori c'è l'albero. Ok, usciamo. Che cacchio è? Aspetta un attimo. No, non posso uscire. Non mi fa uscire, ragazzi. Guardate, non mi fa uscire? Oh! Credo anche di aver capito che cos'è successo qui. Questo, mi sa che è l'Hazmin Hotel, ragazzi. Cioè, perché vedete, è tutto rosso e poi ci sono tutte queste cose e non posso nemmeno piazzare le torce, niente, perché sono in avventura, non riesco a fare... Ho sentito qualcosa qui in giro. ragazzi. Avete sentito? Sto sentendo qualcuno che cammina, sentite? C'è qualcuno che cammina? Aspetta un attimo da qualche parte. E' Alastor! No, no, Alastor, ti prego, no, 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 ti prego. Posso uscire? Voglio uscire, per favore. Ok, so, non posso uscire, ok. Allora, io ti ho invitato in questo mondo, ma non mi devo scappare, mi vuole uccidere, ragazzi, aiuto. Ah! No, 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 mi devo nascondere, non posso farmi trovare da Alastor adesso, non posso farmi trovare da Alastor, perché mi sa che... Eh, Alastor, scusami, me ne devo andare, non so, no, 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 mi spiace, ragazzi, aiuto, mi sto seguendo, come fate a trasportarsi? Cioè, va bene che è Alastor, in effetti, ed è un demone veramente pazzesco, peraltro, mi sa che Alberum permette automaticamente di spawnare tutte queste cose all'interno dei nostri mondi, una roba del genere, tipo, almeno non so, un'ipotesi, ok? Aaaaaa! Aiuto! Per favore, Alastor, te ne vai via, non ti conosco! No, ragazzi, 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 ho paura, ho paura, RM, ok? Dove mi nascondo qui dentro, in una di queste stanze? Sì, 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 mi posso nascondere qui dentro, ok? Sono all'interno di questo posto, teoria, qua non può rifare nessuno, mi posso anche bloccare, no, non è vero, non posso farlo, non posso farlo perché non ho i blocchi, peraltro non posso nemmeno scavarmi per uscire da sto hotel, quindi dobbiamo trovare, ragazzi, una via d'uscita da questo hotel, il prima possibile, non possiamo stare qua, tipo, le finestre si possono spaccare? forse c'è un posto d'uscita, forse posso uscire? Allora, vediamo un attimo, ok, devo stare attentissimo, così, bene, 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 e qui, in teoria, posso uscire? No, non posso, non posso comunque uscire, ragazzi, e allora che cosa faccio? E quindi mi sta praticamente dicendo di entrare, accidenti, ah, la store, ciao, vado via, no, 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 per favore, no, per favore, e poi lì c'è una botola, devo avvicinarmi, io ho visto qualcosa, mi sa che, quella è una botola strana, no, mi sta seguendo, mi sta, mannaggia, brutta storia, brutta storia, brutta storia, no, sono bloccato, per favore, mi hai dato un libro? Stortezza, per tutte le stortezze, aiuto, per favore, non farmi male, va bene, leggerò, ok, ciao Dunis, benvenuto all'Hazbin Hotel, hai voluto evocarmi, no, ecco ti accontentato, adesso, morirai, sopravvivi, o prenderò la tua anima, alastor, vedi, ti ho anche interpretato la voce, pessimo lavoro, lo so, però, aaaah, non scherzo più, d'accordo, mi sa che devo sopravvivere, me ne vado, ciao, mannaggia, ma ragazzi, quindi praticamente mi sta dicendo, o sopravvivi, o io prenderò la tua anima, come faccio, questo è un giochetto per lui, palesemente ragazzi, ok, mi devo nascondere qui all'interno, così almeno sono nascosto, e non devo far rumore ovviamente, perché, boh, magari mi sente attraverso il rumore, non lo so, dove è finito questo Alastor, spero che non venga qui assolutamente, io sono tutto nascosto, qui all'interno della casa, allora, dobbiamo fare, aaaah, l'ho visto in F5, no, perché, Alastor, senti un po', ragazzi, siamo provati a scendere, ora proviamo a salire, poi dopo peraltro, ricordiamoci che anche c'è una botola, all'interno, di questo hotel, e al, pieno terra praticamente, ho visto quella botola lì, girandomi, le botole potrebbero essere, eccoci, sta arrivando Alastor, ma noi ci nasconderemo, nascondiamoci, non dobbiamo dare segni della nostra esistenza, siamo nascosti, vedete ragazzi, qua non ci troverà mai, palesemente, dobbiamo praticamente usare anche l'F5, eh, tipo, la possibilità di mettereci in terza persona, per capire se tipo arriverà qui oppure no, peraltro che cacchio c'è qui, scusatemi un attimo, cos'è quella costruzione lì, arco 2, no, no, non mi hai visto, 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 ok, mi sono nascosto, mi sono nascosto, mi sono nascosto, mi sta vedendo, non mi sta vedendo, non mi sta vedendo, ragazzi, 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 oddio, quindi siamo riusciti, a nasconderci da Alastor, no, mi sto cagando addosso, aiuto, aiuto, basta, per favore, basta, vai via, mi sto facendo paura, no, no, per favore, basta, basta, Alastor, scusami, 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 ti prego, non volevo, non volevo evocarti, ti prego, si ragionevole, si ragionevole, aspetta, aspetta, dai, se vuoi posso fare qualcos'altro, basta che non prendi la mia anima, no, possiamo diventare amici, no, va bene, cioè, se vuoi possiamo diventare amici, ma non credo che questo ti interessi assolutamente, dato che tu sei un demone molto cattivo, e ti piace anche essere cattivo, eh no, ti piace essere cattivo, giusto? Eh già, quindi, cosa possiamo fare insieme, cioè, cosa posso fare per te, oltre alla mia anima? Mi vuoi far vedere qualcosa? Ok, andiamo, fammi vedere, non so, eh, ok, ti seguo, d'accordo, certo, certo, vengo con te, vediamo un attimo, cosa mi vuole far vedere ragazzi, questo, perché, mi vuole indicare qualcosa? Dimmi, prego, vuoi alberum? Guarda, questo è proprio alberum, non ho capito, devo dormire, perché devo dormire? Ah, 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 ho capito, certo, eh, no, guarda, ehm, ho capito, eh, va bene, guarda, un po' sus questo Alastor ragazzi, un po' sus, però diciamo che, cioè, è simpatico dopo tutto, no? Mi sa che, ragazzi, mi vuole proprio andare al piano di sopra, cioè, proprio impazzito completamente, va bene, va bene, non so, lo devo seguire forse, non sto capendo, perché, cioè, ho paura che se lo faccio arrabbiare, mi uccide, viceversa, se lo faccio, cioè, se, insomma, andiamo un attimo, da questa parte magari, e qui, il fatto però lui può anche sentirmi, ma abbiamo capito che non possiamo uscire dalla sminoteca, ciao, ah, c'ha un cartello, vedi, mi vuole dire qualcosa, di non entrare, ok, scusami Alastor, ok, allora non entro, ok ragazzi, non sto capendo, mi sta simpatico per un qualche motivo, com'è possibile che mi sia simpatico, cioè, mi sta veramente simpatico, prima mi aveva invitato in un posto, poi adesso si sta facendo i suoi cavoli, ciao Alastor, non sto entrando, come vedi, sto rispettando i tuoi spazi, giustamente, che importante, d'accordo, va bene, ho capito il tuo indizio, non devo entrare lì dentro, sono fatti i suoi ragazzi, ci devono fare i fatti nostri, sapete cosa? e direi che mentre ci facciamo i fatti nostri, noi ce ne andiamo via da qui, prima che sia troppo tardi ragazzi, avevamo visto la botola da questa parte, e spero che non ci segua, perché se no, ah, avete capito? Da qui si può uscire, eh, lo sapevo io che non lo sapevo, ehi, io me ne posso uscire, forse, vediamo un attipreg di me che posso uscire da questa parte, dai, oddio, forse sì, forse sì, forse sì, forse sì, forse sì, e si è arrabbiato, si è arrabbiato tantissimo, oh mio dio, questo è tutto l'Hazbin Hotel, no no, me ne vado, me ne vado, me ne vado, forse gli sta dicendo Alberum che sono uscito, può essere? Eh, dannazione ragazzi, eh, si è arrabbiato tantissimo, forse si è sentito tradito perché sono uscito, ragazzi, più tardi, entrerò di nuovo in questo server, per vedere se Alastor è ancora qui, vedete, l'Hazbin Hotel e tutto quanto, ehm, io quindi adesso per questo video direi che è tutto, Alastor tranquillo, dopo rientro, ho già detto ai ragazzi che poi rientrano, tanto lui mi può sentire, per un qualche motivo lui mi scrive in inglese, ma in italiano mi capisce, e questa cosa è abbastanza strana, perché potrebbe anche scrivere in italiano quindi, forse è un'intelligenza artificiale o qualcosa del genere, non lo so, quello che so però è che mi sta simpando, ah, c'è qua, mannaggia, facciamo finta di non vederlo,